Bentornati sul canale Fast Tutorial Italia Oggi veramente un video particolare Intervistiamo il mio aiuto regista Che sarà il nuovo astro nascente di Youtube Naturalmente non adesso, è troppo troppo giovane Comunque ci tenevo a farlo conoscere meglio alla platea Andiamo subito a intervistarlo Mi raccomando, seguiteci perché ci saranno tante novità Iscrivendovi al canale e attivando la campanella Andiamo ad intervistare Paolo Quanti anni hai? Sono un ragazzo di 14 anni Dove vivi? Abito in provincia di Novara Cosa studi? Allora, per quest'anno nuovo Ho deciso di cementarmi nella meccanica aeronautica Interessante Davvero bella idea Faccio il Fausen Insomma, mi piacerebbe diventare un pilota da aerei O addirittura male che vada un costruttore Bravo! Farai carriera Che hobby hai? Oltre allo studio mi dedico anche molto al teatro, al cinema E aiuto con le riprese un mio caro amico fast tutorial Italia Sono la batteria A volte mi piace guardare dei film, andare in giro con i miei amici, fare escursioni Soprattutto in campagna, al parco Insomma Ci piace molto l'avventura diciamo Va bene Paolo, abbiamo capito, sei un grande E' vero che ti hanno scritturato per un film Ultimamente ho fatto la proposta per entrare a far parte di un film E mi hanno quasi credo Non vedo l'ora di vederti all'opera Paolo Un giorno avrai in erevità questo canale Come lo porterai avanti? Beh ovviamente per mantenere Manterò la tradizione di fast tutorial Italia Cioè un po' di divertimento, un po' di cucina e un po' di esplorazione Misto tutto al divertimento, com'è la tradizione Bravo, parole sane Cosa vedremo prossimamente? No spoiler, soltanto vi posso dire che Sarà un video on the road In mezzo alla gente, insomma Capito? Va bene Paolo, sarai il futuro YouTube Paolo, fai un saluto al canale Allora, agli iscritti al canale Non posso che dire bravi, bravissimi Mentre a quelli non iscritti al canale Devo soltanto dire che Iscrivetevi al canale Fast Tutorial Italia Davvero importante Bravo Ci vediamo alla prossima Paolo Non vedo l'ora di fare nuovi video con te Dopo questa intervista avete potuto conoscere finalmente Paolo Io vi invito ancora a iscrivervi al canale Mi raccomando Ci saranno entusiasmanti novità Grazie e alla prossima Ciao 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 Ciao